E' con dolce amatissimo soprattutto dei bambini, il latte dolce fritto, piccoli rombi profumati e zuccherosi. Quanto ai grandi è impossibile condurre la memoria a un pasticcino o altra sofisticazione in grado di offuscare il ricordo di tanta, infinita dolcezza. Questo dolce, fatto semplicemente di latte, pane e zucchero, è stato certamente già in uso nelle più antiche sagre paesane, fino a diventare testimone di un'era, surrogato di un ettare di vino e nostalgico ricordo di infanzia. Un altro dolce tipico della cucina ligure è il latte dolce fritto. Servono farina, uova, zucchero, limone grattugiato, vaniglia e un pizzico di canella. Mettiamo sul fuoco una pentola, versiamo circa 800 grammi di latte e lo facciamo a scaldare. Nel frattempo in un contenitore mettiamo la farina, lo zucchero semolato, prendiamo una stecca di vaniglia, le incidiamo, così andiamo a prendere i semi che poi vengono aggiunti al nostro latte che si sta scaldando sul fuoco. Aggiungiamo la scorza di limone, 5 uova intere e un po' di latte. Ora il composto viene girato da formare una crema. Il composto è pronto quando è molto cremoso, infatti noi lo mettiamo in un'altra parte e lo sbattiamo con la frusta in maniera che non ci siano grumi. Una volta che il composto è pronto andiamo ad aggiungere un pizzico di canella nel nostro latte. Il latte non deve bollire, poi viene aggiunto tutto il composto. Adesso abbiamo aggiunto tutti gli ingredienti nella nostra pentola. Bisogna sempre girare con un mestolo, inizialmente con una frusta, in modo e maniera che tutti i grumi vengono eliminati. Poi si può prendere anche un mestolo e girare sempre. L'importante è che il fondo non bruci. Quando arriva alla bollitura deve cuocere 20 minuti. Il composto è pronto al termine dei 20 minuti. Noterete che è una crema molto morbida. Terminata la cottura della nostra crema, la mettiamo in una teglia precedentemente oliata. Lo spessore della crema deve essere a circa 2 cm. Una volta terminata l'operazione viene fatto raffreddare a temperatura ambiente e poi messo in frigorifero. questa è la nostra crema. La tagliamo a forma di rombo e poi viene impannata nel tuorlo d'uovo e poi passata nel pane grattugiato. E poi passata nel pane grattugiato. Terminata l'impanatura andiamo a friggere. L'olio deve essere caldo. Grazie. Grazie. Il latte dolce ha terminato la cottura. Viene messo sempre su carta assorbente. il latte dolce. Adesso andiamo a impiattare. Il latte dolce come preparazione è molto lunga. Ci vogliono 20 minuti di cottura, poi la pausa per raffreddarlo e poi successivamente viene messo in frigorifero. tagliato a rombi e poi impannato. Questo è il risultato dopo la frittura. Il latte dolce si accompagna molto bene con il sorbetto di frutti rossi. Per l'occasione abbiamo messo questa variante del sorbetto che si abbina molto bene caldo freddo con il nostro latte dolce. Prendo lo zucchero semolato. Spolvero il nostro latte dolce. Ora andiamo a terminare il piatto. Mettiamo una foglia di basilico e per decorazione dei bacchi di vaniglia. Questo è il nostro latte dolce terminato. aspetto.